Le settimane rossiniane nell'anno di Pesero, capitale della cultura, si sono concluse oggi all'Istituto Alberghiero Santa Marta con le sfide finali del concorso nazionale Giochino Rossini Gran Gourmet, ideato per diffondere il verbo della cucina rossiniana. Cinque istituti alberghieri finalisti si sono sfidati e il piatto vincitore, secondo la giuria, è stato quello proposto dall'Istituto De Carolis di Spoleto, che ha proposto i tortelli in crescendo, abbinati a un'alto bella doc 2022 dei Colli Maceratesi e all'opera rossiniana La Gazzalatra. È una giornata per noi memorabile, perché appunto tutto l'Istituto è concentrato su questo evento. Sì, i ragazzi che per esempio hanno in qualche modo contribuito all'organizzazione e i professori soprattutto, perché hanno curato tutti gli aspetti per mettere nelle condizioni migliori le cinque scuole che partecipano alla fase finale. I tortelli in crescendo della scuola spoletina hanno avuto la meglio sugli altri istituti alberghieri finalisti di Riccione, Senigaglia, Pordenone e la Palermitana Carini. Allora, il piatto che abbiamo presentato sono i tortelli in crescendo. Questi tortelli hanno la caratteristica di prendere spunto dal crescendo rossiniano. Infatti li troviamo di tre grandezze diverse, dal più piccolo che sta a sinistra al più grande a destra, con tre sapori diversi. Il primo soltanto filetto di manzo, il secondo filetto di manzo è tartufo, il terzo filetto di manzo è tartufo e foie gras. Sopra troviamo gli stessi ingredienti che troviamo all'interno, accompagnato del tutto da una demi-glace servita con un cucchiaio d'argento, riprendendo sempre il brano che è la gazzaladra, proprio per le posate che sono state rubate all'interno del brano. Tutto poggiato su un pentagramma di salsa di piselli e accompagnato con delle gocce di salsa di carote. 14 istituti che hanno aderito alla tutt'Italia e anche l'istituto ospite di Sarajevo, fuori concorso, ma che ha presentato una interpretazione veramente originale dello spirito rossiniano a due secoli di distanza dal suo racconto principale. Ed è lo spirito di questo concorso, cioè partire a un paniere di prodotti che Rossini consumava, amava, conosceva, raccontava e per farne piatti secondo il gusto di oggi, antipasti, primi, secondi o dessert, che avessero anche la capacità però di entrare nelle tavole di oggi, in particolare in quelli dei ristoranti. Importante come azione in sé perché è uno studio attorno alla produzione di Rossini con un ragionamento anche sull'abbinamento dei vini in base al suo gusto, ma anche in base al territorio in particolare marchigiano, l'abbinamento rispetto alle musiche, perché naturalmente il cibo ispirava Rossini nella musica, la musica ispirava Rossini e anche il pubblico nell'ascoltare le sue opere e soprattutto la possibilità per decine, a questo punto centinaia negli anni, perché siamo alla quarta edizione di giovani studenti, di istituti alberghieri e turistici, di cimentarsi con un grande messaggio che era quello di Rossini Gourmet, ma anche un gran contemporaneo in cui attraverso le celebrazioni di Rossini, attraverso anche la Capitale 2024 da Pesaro, con l'autenticità di un concorso, con una giuria veramente importante, vogliamo appunto rilanciare questo messaggio e farne patrimonio d'Italia ed Europa.